In che modo Dio ti sta parlando? Quali sono i canali che Dio usa per parlare a me e a te e a tutti gli esseri umani? La Bibbia dice che Dio è amore e l'amore per definizione, per esistere, deve essere comunicato in qualche modo all'interno di una relazione. Perciò possiamo aspettarci che se la Bibbia ci dice che Dio è amore, Dio sia anche un Dio che voglia rivelarsi, che voglia parlare alle sue creature. Non ci deve sorprendere che Dio quindi ci ha lasciato per esempio la parola scritta, una lunga lettera d'amore. Dio è un Dio che si rivela ai suoi figli. E allora vediamo in quali modi Dio ci parla. Il primo mezzo tramite il quale Dio parla a me e a te è la natura. E il Salmo 19 dice al versetto 1 Il cielo, l'infinitamente grande, l'universo ma anche la natura di questo mondo ci parlano di chi è Dio. E Paolo scrivendo dei pagani, che quindi non conoscevano le scritture, scrisse qualcosa di molto molto interessante in Romani al capitolo 1. Dice Perciò Paolo stava parlando dei pagani e del fatto che anche loro, pur non avendo la conoscenza delle sacre scritture, erano inescusabili davanti a Dio per la loro ignoranza riguardo Dio, per la loro ribellione nei confronti di Dio. Perché? Paolo argomentò che le qualità invisibili di Dio, cioè gli attributi del suo carattere, la sua bontà, la sua misericordia, la sua giustizia, la sua potenza, la sua santità, questi attributi di Dio sono chiaramente manifestati nelle opere delle sue mani, cioè nel creato, nella natura. In altre parole, la natura testimonia di Dio e del carattere che Dio ha. Quindi solo guardando alla natura possiamo capire che esiste un Dio al di sopra di noi. E se esiste un Dio al di sopra di noi che ha creato ogni cosa, allora ne consegue anche che dobbiamo rendere conto della nostra vita al Dio che ci ha creati, perché la vita non è nostra, non ci appartiene. Perciò vedete che chi non crede in Dio è inescusabile, dice Paolo, solamente per il fatto che ha la natura a disposizione. La natura è una testimonianza sufficiente almeno per credere all'esistenza di un Dio al di sopra di noi. Ma non solo questo, ma Paolo dice anche che alcune delle sue qualità, gli attributi del suo carattere, sono resi manifesti nella natura. Quindi contemplando la natura l'uomo poteva giungere a capire che esisteva un Dio creatore e un Dio buono. Da dopo il peccato la natura è diventata decaduta come gli uomini. Sempre nel libro dei Romani, ma al capitolo 8, Paolo scrisse, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, cioè l'uomo peccando, ha sottoposto non solo se stesso, ma anche la natura alla vanità. E poi continua dicendo, infatti, noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi. Non solo noi soffriamo e gemiamo in travaglio, ma anche il mondo della natura stessa, gli animali, le piante, tutto il creato. La creazione soffre, perciò, per le conseguenze della caduta dell'uomo. E sebbene sia utile per l'uomo nel suo stato decaduto avere una natura che è anch'essa decaduta, perché gli ricorda le terribili conseguenze del peccato, la natura corrotta dal peccato non è più una rivelazione perfetta del carattere di Dio. Perciò abbiamo a disposizione, sì, ogni uomo in realtà ha a disposizione una testimonianza su chi è Dio nella natura, ma è una testimonianza imperfetta. Perciò non è sufficiente da se stessa per capire profondamente chi è Dio. Ma Dio ha a disposizione un altro mezzo per parlare a me e a te, ed è la coscienza. Lo Spirito Santo parla alla mente di tutti gli uomini. E nella storia della donna adultera in Giovanni, capitolo 8, leggiamo che Gesù iniziò a scrivere per terra e evidentemente dalla reazione degli accusatori della donna si capisce che stava scrivendo i peccati dei suoi accusatori. E poi si rivolse a chi aveva portato quella donna da Gesù accusandola in questo modo. Disse, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E notiamo la reazione dei presenti. Quindi furono convinti dallo Spirito Santo nella loro coscienza. La Bibbia ci parla di una buona coscienza. Per esempio l'Apostolo Paolo disse di sé, in Atti 24-16, per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. E scrivendo a Timoteo disse, Ma la Bibbia non parla solo di una buona coscienza, di avere una buona coscienza davanti a Dio e agli uomini. La Bibbia parla anche di una cattiva coscienza. Leggiamo due testi. Tito 1-15 Certamente tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Ebrei 10-22 dice, Perciò la Bibbia parla di una buona coscienza e di una cattiva coscienza. Da questo deduciamo che la coscienza non coincide con la voce di Dio nella mente, con la voce di Dio all'uomo. Dio sì parla alla coscienza, ma la coscienza è molto di più che la voce di Dio. È il prodotto della cultura nella quale siamo cresciuti, dell'educazione ricevuta in famiglia o a scuola, dell'istruzione religiosa anche ricevuta, e di qualunque cosa una persona scelga di far entrare nella sua mente. Quindi, non solo Dio però può parlare all'anima, alla coscienza, anche Satana ha accesso alla coscienza. Satana può accedere alla mente tramite le sue tentazioni, può suggerire dei pensieri, così come lo Spirito di Dio può imprimere dei pensieri nella nostra coscienza, anche Satana può arrivare con le sue tentazioni. Quindi abbiamo che la voce di Dio non è l'unica voce alla coscienza. Ci sono due voci in competizione che parlano alla nostra coscienza, la voce di Dio e la voce di Satana. Però, più rumore c'è nella nostra mente, un rumore di fondo, più distrazioni ci sono nella nostra mente, più facciamo entrare cose contrarie alla volontà di Dio nella nostra mente, e meno sensibile diventa la nostra coscienza alla voce di Dio. E quindi più una persona col tempo rifiuta di ascoltare la voce di Dio alla sua coscienza, e più una persona diventa indurita. La voce di Dio si fa sempre più flebile. Con la nostra volontà possiamo decidere di seguire o di rifiutare gli appelli che lo Spirito Santo rivolge alla nostra coscienza. E possiamo anche educare la coscienza a diventare sempre più sensibile alla voce di Dio. Quando noi ascoltiamo la voce di Dio, rendiamo la nostra coscienza più sensibile e rendiamo più probabile il seguire quella voce una seconda volta. E così via dicendo. Dall'altra parte, rifiutare la voce di Dio è molto molto pericoloso, perché ogni rifiuto rende più probabile il rifiuto successivo. L'Apostolo Paolo parlò delle terribili conseguenze che ci sono andando contro la voce di Dio alla coscienza. In Prima Timoteo 1,19, Paolo esortò Timoteo ad avere fede e una buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto un naufragio nella fede. Per quindi, come la natura è una rivelazione imperfetta di chi è Dio, così anche la coscienza, essendo più che semplicemente la voce di Dio, essendo il prodotto di molti altri fattori, anch'essa è una rivelazione imperfetta di Dio, perché è contaminata anche dai nostri pensieri umani. Un terzo modo nel quale Dio ci parla è la provvidenza. Usiamo spesso i termini porte che si aprono e porte che si chiudono per indicare l'intervento di Dio nel dirigere le circostanze in una data situazione per suggerire ai suoi figli quale sia la via da seguire. Quindi apre una possibilità oppure chiude una possibilità, cercando così di incoraggiare la scelta giusta nei suoi figli. C'è addirittura un intero libro della Bibbia, che è il libro di Esther, dove il nome di Dio non compare nemmeno una volta. Però Dio è come se è presente nel libro di Esther, perché lo vediamo agire dietro le quinte, agire sugli eventi, sulle circostanze, per dirigere il corso della storia secondo ciò che egli voleva. Quindi vediamo un Dio molto, molto presente nel libro di Esther, anche se non è mai nominato. Ed è forse il libro per eccellenza della Bibbia che ci parla della sua provvidenza. Dalla creazione fino al tempo di Mosè, quindi per un paio di millenni circa, gli uomini avevano avuto a disposizione solamente la natura, la coscienza e la tradizione orale per conoscere Dio. E ovviamente anche la provvidenza, come abbiamo detto. Inoltre Dio era apparso anche personalmente ad alcuni uomini, come per esempio ad Abramo, anche a Giacobbe e ad altri, e queste erano le uniche testimonianze che avevano di Dio, le uniche rivelazioni che erano a disposizione dell'umanità. E poi Dio, iniziando con Mosè, ha deciso di ispirare uomini santi con il suo spirito e di dare all'umanità la sua parola scritta. Vedete, a differenza dei mezzi che abbiamo citato fino adesso, la natura e la coscienza in particolare, che sono imperfetti, la parola scritta, la Bibbia, è una rivelazione perfetta di chi è Dio e del suo carattere. Quindi la Bibbia ci permette di conoscerlo meglio rispetto a chi ha a disposizione, per esempio, solo la natura e la coscienza e anche la provvidenza per conoscere Dio e la sua volontà. Chi conosce la parola di Dio ha un privilegio maggiore, ha una possibilità migliore di conoscere profondamente Dio e il suo carattere. Ebrei, al capitolo 1, i primi due versetti, ci dice «Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi, per mezzo di suo figlio». Dopo aver parlato per circa due millenni tramite la parola scritta, Dio ha parlato all'umanità tramite la venuta di suo figlio. Gesù è venuto sulla terra. La Bibbia ci dice che la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. Dio stesso è venuto tra di noi nella persona del figlio a vivere come uomo in mezzo agli uomini. Gesù è chiamato l'Emmanuele, il Dio con noi. E quindi per quella generazione che vide Gesù ebbe una rivelazione in più di Dio. Non solo la parola scritta, ma anche la persona del figlio di Dio in mezzo a loro. E quindi nella vita di Gesù, che è la parola incarnata, gli uomini hanno potuto vedere applicati alla perfezione i principi della parola scritta, perché Gesù incarnava ogni istante e alla perfezione i principi della parola scritta nella sua vita. Gesù ha mostrato in modo evidente che cosa significa per gli uomini vivere ogni istante della loro vita secondo ogni parola che procede dalla bocca di Dio. In Giovanni 1,14 è scritto Questo testo ci dice non solo che Gesù si è fatto uomo ed abitato tra di noi, ma che nella sua vita, nella sua persona, gli uomini hanno potuto contemplare la gloria di Dio. Che cosa rappresenta la gloria di Dio? Quando Mosè si trovava sul monte Sinai, in un'occasione, chiese a Dio di mostrargli la sua gloria. E Dio nascose Mosè nella fenditura di una roccia, poi passò davanti a lui e proclamò il suo nome. E quando andiamo a leggere il testo, vediamo che Dio elencò gli attributi del suo carattere. Perciò, da questo brano, siccome Mosè aveva chiesto a Dio di mostrargli la sua gloria e Dio rispose parlandogli del suo carattere, l'Eterno, l'Eterno, misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, deduciamo che la gloria di Dio rappresenta il suo carattere. Perciò abbiamo letto in Giovanni 1,14 che gli uomini hanno potuto contemplare in Gesù la gloria di Dio, cioè il carattere di Dio. In Gesù noi vediamo come Dio è veramente. Tramite la vita di Gesù possiamo vedere, possiamo sapere come Dio pensa, come Dio agisce e come Dio parla. La gloria di Gesù, ci dice Giovanni, era piena di grazia e di verità. Grazia e verità sono i due pilastri del carattere di Dio. Ho altre parole che possono descrivere le stesse realtà. Grazia oppure misericordia e dall'altra parte verità oppure giustizia. Quindi misericordia e giustizia sono i due pilastri del carattere di Dio e sono due facce della stessa medaglia che si chiama amore, perché Dio è amore. E questo amore si rivela tanto nella sua misericordia quanto nella sua giustizia. Quindi in Gesù abbiamo potuto contemplare la gloria del Padre piena di grazia e di verità. Gesù ha sempre parlato secondo verità, ma l'ha anche sempre fatto con grazia. Pochi versetti dopo, in Giovanni 1,18, Giovanni diede questa testimonianza «Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere». Nessun uomo ha mai visto Dio e perciò Dio ha inviato Gesù sulla terra per mostrare come Dio è veramente. E la sera prima di morire Gesù disse ai discepoli «Chi ha visto me ha visto il Padre». Gesù è venuto sulla terra per amare l'umanità, per servire l'umanità. Guariva le persone, scacciava i demoni, sosteneva gli oppressi, fasciava quelli che avevano il cuore rotto, incorreggiava gli afflitti, liberava coloro che erano imprigionati nelle catene del peccato, della malvagità, alleviava le sofferenze di chi era ammalato nel fisico oppure anche nello spirito. Gesù viveva per fare del bene all'umanità. Gesù ha mostrato che Dio ama gli uomini incondizionatamente. E infine, dopo aver vissuto una vita perfetta, Gesù ha offerto la sua vita in sacrificio sulla croce per i peccati dei suoi figli colpevoli, per me e per te. Scrisse Pietro in Prima Pietro al capitolo 3 che Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Questo è il Dio d'amore della Bibbia che si è rivelato a me e a te. Dio usa molti modi per parlarti. Usa la natura, opera delle sue mani. Usa la coscienza attraverso la quale lo spirito ti comunica dei pensieri. Usa la provvidenza, aprendo o chiudendo delle possibilità davanti a te. E poi usa la parola scritta, la perfetta rivelazione del suo carattere. E in più ha mandato anche Gesù sulla terra, affinché tu, ovviamente non lo puoi vedere fisicamente, ma leggendo della sua vita e della sua morte, delle pagine della scrittura, possa arrivare a conoscere Dio per come Egli è veramente. Sì, Dio è un Dio d'amore ed è un Dio che ti sta parlando in molti, molti modi. Stai prestando attenzione?